Non cercate di escapare, mio amico. Dopo lo stop del 2020 dovuto all'emergenza sanitaria, Pesaro torna alla Coppa Mondiale di Ginnastica Ritmica. Ad ospitare la prestigiosa manifestazione, senza pubblico per via della pandemia, sarà la Vitrifrigo Arena. Da domani, venerdì 28 maggio, fino a domenica 30, le migliori ginnaste del mondo saliranno in pedana per la dodicesima edizione della Kermess, diventato ormai uno degli appuntamenti più importanti del circuito internazionale della ginnastica ritmica e che quest'anno, oltre a coincidere con la finale di tutte le tappe di Coppa del Mondo, sarà qualificante per le prossime Olimpiadi di Tokyo. I numeri della manifestazione sono quelli dei grandi eventi, 38 nazioni partecipanti per 180 ginnaste e 350 componenti delle delegazioni. Ci saranno le squadre più forti, dalla Bielorussia alla Bulgaria, da Israele alla Russia, fino alla Spagna, l'Ucraina, il Giappone e gli Stati Uniti. Un grande spettacolo dall'alta valenza sportiva, nel segno del quale ripartirà anche il turismo pesarese. Sarebbe stato un evento, penso, uno dei migliori dei 12 anni, perché abbiamo le migliori ginnaste del mondo, anche perché sono tutte in preparazione per le Olimpiadi di Tokyo, e quindi sono tutte qui presenti, e ci sono ancora dei posti per conquistare il pass per le individualiste e per i giochi olimpici, quindi è molto interessante. Inoltre è l'ultima delle quattro coppe, la prima volta che noi chiudiamo, per solito noi siamo sempre la prima o la seconda, e quindi ci sarà la vincitrice della serie, delle coppe del 2021, sia per le individualiste, sia per i gruppi. Anche come numeri direi che sono una delle maggiori presenze, sono 18 squadre e abbiamo 70 individualiste, abbiamo 38 paesi, ed è uno dei numeri più alti che abbiamo avuto nei 12 anni. Quindi a livello tecnico e di presenza di delegazioni siamo soddisfattissimi. Ci dispiace purtroppo che il pubblico non può entrare, però speriamo che ci seguano tutti sulla 7, che domenica farà la diretta, e venerdì e sabato avremo lo streaming su YouTube. L'arena si conferma, volano fondamentale per l'economia turistica della città di Pesaro e dell'intero territorio regionale. Lo sport è la prima iniziativa su cui tutti puntiamo, dalla Regione Marche, passando per il Comune di Pesaro, e noi che abbiamo un contenitore, gestiamo un contenitore così importante, ci stiamo mettendo del nostro massimo. Quest'anno organizzare la Coppa è stato più complicato degli altri anni, perché il Covid e la pandemia hanno imposto delle regole molto ferre. Tutti quelli che entrano all'interno dell'arena dovranno essere tamponati, insomma c'è un controllo molto ampio e molto ferreo dal punto di vista proprio della gestione dell'evento. Però, come si diceva prima, speriamo che sia il sintomo di grande qualità e di ripartenza per il settore turistico, che attraverso questo contenitore ha già riempito di fatto le strutture ricettive della città e non solo della città di Pesaro. Grazie!